il tappo ben ritrovati qui ad Ortona per il secondo quarto per l'undicesima giornata serie B nazionale si affrontano la World Basket Ortona e la San Severo Basket punteggio 13 pari tutto da rifare per le due squadre palla nuovo entrato Musso Di Carmine ancora Musso palla per Gialloreto ancora Musso giro palla per Brown palla per Gialloreto si butta dentro subito però palla rubata dal numero 7 Ricci e palla errore di Kanji subito riparte la World Basket con Di Carmine palla per Musso nuovo entrato Martone Musso sfrutta il suo blocco solo ferro per lui rimbalzo di Kanji stava per perdere palla ma la riconquista è subito cena per Di Marco per Marmucci per Marmucci butta dentro pressato da Martone rimbalzo conquistato da quest'ultimo pallone affidato al nuovo entrato Musso palla per Brown di Carmine Gialloreto pressato molto bene da Di Carmine riconquista Brown da tre punti solo ferro per lui riparte Sansevero palla per il numero 2 Marmucci ora con Ricci ad impostare ancora Marmucci pressato da Musso sotto canestro per Ikanji fallo fischiato dall'arbitro numero 7 Musso esce intanto Di Carmine entra il numero 18 Hernani Comignani per Sansevero esce il numero 35 Ikanji rientra il numero 16 Scarponi Animi concitati qui d'Ortona vediamo coach Sorgentone che non accetta la decisione arbitrale rimessa in zona d'attacco per Sansevero palla affidata Di Marco scarica su Ricci seguito da Musso Scarponi dalla distanza ferro per lui e riparte la wear basket con Musso la per Gialloreto sfrutta il blocco di Martone ancora Gialloreto ferro anche per lui oggi le due squadre sono un po' fallose in attacco tanti errori al tiro per entrambe le squadre ed ora rimessa wear basket cambio Sansevero rientra con il numero undici Quiris ed esce Marmugi per la squadra locale esce Gialloreto ed entra con il numero tredici Diomede riprende il match con Musso scambio con Diomede si fa vedere Caomignani ancora Diomede palleggio al limite Comignani si gira due punti per Hernani Comignani il capitano della wear basket che subito si presenta con un'ottima soluzione dalla media distanza cerca di farsi largo Quirisi scarico per Di Marco anche per lui due punti punteggio sempre in assoluta parità quindici pari a sei minuti e quarantotto secondi dal termine di questa prima metà del match palla per Brown sotto il blocco di Martone tenta trovare un varco si butta dentro Comignani subisce fallo dal numero dieci cena primo fallo per lui rimesso in attacco wear basket balla affidata numero sette Musso Diomede per Brown ora Musso butta dentro scarico fuori per Comignani da tre punti Ernani Comignani si accende qui palazzetto ad Ortona diciotto Ortona quindici Sansevero palla per gli ospiti Ricci numero undici Quirisa ma sbaglia la sua soluzione palla per Comignani arresto e tiro solo ferro per lui da grande distanza riparte Ricci ottima la sua finta in penetrazione fallo del numero diciotto Comignani sostituzione wear basket esce con il numero nove Brown e entra con il numero diciasette Martelli e intanto c'è subito un time out l'anima 5 minuti e 47 secondi squadra di nuovo in campo qui a Tortona gran tifo sugli spalti bellissimo oggi qui entrambe le tifoserie molto calde tifoseria ospite ben nutrita sono arrivati in tanti da Sansevero qui a Tortona e ci stanno garantendo un grande spettacolo sulle tribune subito tre punti per Di Marco punteggio di nuovo in parità 5 minuti e 30 al termine di questa prima metà del match Comignani sotto canestro per Martone fallo il numero 11 scusate Quarisa Rimessa in attacco World Basket Martone intercettato però il suo passaggio riparte Quarisa e trova due punti tiro libero aggiuntivo punti del fallo commesso da Martone Martone primo fallo per lui Ilonetta Ilonetta si presenta Quarisa per il tiro supplementare e va a segno 21 Sansevero 18 Ortona Diomede per Martelli attivo Diomede dalla grande distanza solo ferro per lui riparte Sansevero con il solito Di Marco subito due punti per Di Marco 23 Sansevero 18 Ortona time out e va a segno Grazie squadre di nuovo in campo quella d'Ortona 4 minuti e 50 al termine di questa prima metà del match 23 Sansevero 18 Ortona Musso butta dentro, palla per Comignani da 3 punti ma rimbalzo di Martone Martelli Musso pressato da Di Marco tenta un varco da fuori per Martelli ancora rimbalzo di Martone passi fischiate a Martone riparte Sansevero palla per Ricci pallone per Scarponi marcato da Comignani stava per soffiarli palla Scarponi tenta una soluzione difficilissima è rimessa a World Basket pallone affidato a Musso pallone affidato a Musso Comignani si fa soffiare palla e commette subito il fallo per stoppare cronometro sostituzione World Basket anzi no esce esce Musso entra numero 6 Giallo Reto in lunetta Di Marco buono buono il primo per lui buono anche il secondo venticinque Sansevero diciotto Ortona Comignani Martelli Diomede si butta dentro ottima soluzione per lui due punti più cinque Sansevero fallo commesso dal numero 17 Martelli e due tiri liberi per il numero 7 Ricci Buono il primo Buono anche il secondo cioè scusate non va il secondo Giallo Reto impostare per la squadra di casa Diomede Martone ancora Diomede dalla media distanza rimbalzo di Martone ma si fa soffiar palla dal numero 11 Quarisa solito Di Marco scarica dietro per cena toccanestro Quarisa non va il suo tiro riparta Ortona Diom Diomede subisce fallo dal numero 10 cena sostituzione sostituzione ospite entra esce entra col numero 35 Ikanji ed essa col numero 10 cena sostituzione anche per la squadra di casa esce col 18 Comignani entra col numero 5 Di Carmine Diomede sfrutta il blocco di Martone frazione di passi fischiato a Di Carmine ikanji per gli ospiti scivola Di Marco palla persa in attacco e riparte Giallo Reto palla per Diomede Di Carmine ancora Giallo Reto deve uscire dall'angolo e palla persa da Di Carmine due minuti al termine della prima metà del match Sansevero 26 20 Ortona Ikanji per gli ospiti c'è una soluzione solo ferro per lui e riparte Diomede palla per Martelli ancora Diomede tabellone tabellone Diomede due punti per lui Enricci da tre punti per gli ospiti che salgono a quota 29 29 Diomede lotta sotto canestro grande grinta e time out a 42 secondi dal termine del secondo quarto di ah e diomede 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di Marco si butta dentro, solo ferro per lui, rimbalzo per Ikanji, subisce fallo. Time out richiesto da coach Sorgentone. Grazie a tutti. 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 Buono anche il secondo. Diomede. Tre punti, solo ferro, rimbalzo di Ikanji. Si conclude qui il secondo quarto. Sansevero 31-22. Ortona ritrovarci tra un quarto d'ora per la seconda metà del match.